Mertens per David Lopez, palla sulla traversa, si salva Kusak, c'era stata deviazione Cialopa, grande inserimento, Cialopa, il primo gol con la maglia del Napoli dopo domani colpirà 21 anni, è il regalo perfetto deve uscire intanto il gol di Insigne, Kusak, superato da Insigne, rimane a vita la difesa dell'Elia e arriva il gol del 2 a 0 si occupa del cross, Mirko Valdifiori, palla dentro e colpa di testa, ancora arriva però l'intervento dell'arbitro non c'è nessun motivo per annullare questo gol prova a spingere da quella parte la Napoli, Cagliecon, suo assist di Mertens è il quinto gol in questa edizione dell'Europa League per Cagliecon, 3 a 0 il Caduri fermato dall'intervento in scivolata di Lerciucca riesce fuori un passaggio per Priovic, è in posizione regolare, attenzione Priovic dentro, il sinistro che termina dentro, è il gol del 3 a 1 Franies il pallone che arriva dalle parti di Mertens, accelera il passo, buon servizio Cagliecon, di nuovo Mertens il palo e poi il gol del 4 a 1 la firma anche di Mertens, che gol pallone ribattuto, ancora Mertens, straordinario, imprendibile Mertens, sulla linea salva in lega, Cagliecon, palo esterno Mertens ha superato intanto un avversario, carica il destro ma che gol, la doppietta di Mertens, è 5 a 1 Napoli, è sicuramente la sua serata Vragnessa, occhio a questo cross, Priovic, pallone dentro per il guardaline non è fuori gioco, protestano quelli del Napoli, è 5 a 2 ha vinto il Napoli, ha vinto 5 a 2 Grazie a tutti